Barcola è distrutta. La mula di Nino Spagnoli, la statua simbolo della riviera triestina, divelta dal proprio piedistallo dalla forza delle onde. Era il 3 novembre dell'anno scorso. A Barcola, tra i notevoli danni dell'imponente mareggiata, c'era anche lo sradicamento della mula di Trieste, scaraventata a terra tra gli scogli dalla violenza delle onde. Ed ecco, a poco meno di un anno di distanza, la statua bronzea dello scultore Nino Spagnoli è stata riparata e ricollocata al suo posto. Quasi un simbolo della resistenza alla furia del mare, l'opera d'arte era rimasta ancorata in Masegni, arriva in quella turbolenta giornata, per poi essere recuperata e posta in un magazzino, dove nel corso dei mesi è stata riparata. I danni alla statua erano fortunatamente di lieve entità, più gravi invece le condizioni del basamento di calcestruzzo, sul quale era collocata la celebre mula, che è stato sostituito infatti da una struttura più resistente, in metallo. Ormai tratto caratteristico del paesaggio barcolano in qualsiasi stagione, l'opera, che raffigura una giovanissima bagnante triestina, è dunque tornata a far bella mostra di sé nella sua postazione consueta.